Tutti i sogni che noi vivono, tutti i sogni che fuori si realizzano, potrebbe essere tanti e così lo puoi, se lo puoi. Ascoltare quei gruppi carini che ogni giorno alla radio trasmettono, è divertente solo da qualche minuto, ma adesso ascolta queste note, solo per te, e ascolta queste note e vivi qui, i tuoi momenti insieme a noi, ogni istante della tua vita che non vuoi gettare e il vento dedicalo a noi, porta questa musica in te, opera, opera dai, e ascolta questa opera, suoni dolci e teoli, si uniscono all'aria, per darti una musica che nessuno ti ha dato, non ci vuole un mago, però lascia il passato, ma voglio ascoltare più e balza in volume per sentire il coro di quest'opera magnifica. Grazie. 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 Grazie.